ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerai foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario ciclofin a cosa serve ciclofina un medicinale veterinario a base del principio attivo che si tetraciclina più flunixina appartenente alla categoria degli antibiotici e nello specifico tetracicline è commercializzato in italia dall'azienda de cra veterinari products srl ciclofin può essere prescritto con ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 informazioni commerciali sulla prescrizione titolare de cra regula turi bd concessionario de cra veterinari products srl ricetta rn rvd ricetta non ripetibile veterinaria di lgs 218 2023 principio attivo o che si tetraciclina più flunixina gruppo terapeutico antibiotici forma farmaceutica soluzione confezioni ciclofin 300 mg barra ml più 20 mg barra ml soluzione iniettabile per bovini uno flacone da 100 ml principio attivo ogni ml contiene possi tetraciclina 300 mg equivalenti a 323,5 mg di diossi tetraciclina di ivrato e flunixina 20 mg equivalenti a 33,2 mg di flunixina miglumina indicazioni per il trattamento della malattia respiratoria acuta causata da manneemia emolitica e pasteurella molto ocida quando ha richiesto un effetto antinfiammatorio e antipiretico contro indicazioni non usare in animali effetti di malattie cardiache epatiche o renali quando esiste una possibilità di ulcere o emorragie gastrointestinali non usare in animali disidratati ipovolemiche o ipotesi poiché a copyright si corre il rischio di aumentare la tossicità renale non usare in casi di ipersensibilità alle sostanze attive oa uno degli eccipienti non usare il medicinale veterinario in presenza di segni di discrasia ematica o alterazioni delle mostasi posologia si prevede che il medicinale veterinario sia ben tollerato dopo la somministrazione di una dose di trattamento doppia rispetto a quella raccomandata 4 mg barra chilogrammi di flunixina e 60 mg barra chilogrammi di ossite traciclina a questa dose doppia può manifestarsi dissenteria transitoria con o senza apatia sintomi che si risolvono senza trattamento nell'arco di 48 72 ore studi sui bovini trattati a una dose doppia rispetto alla dose normale hanno mostrato reazioni transitorie e dose dipendenti nel sito di iniezione a dosi superiori oltre tre volte la dose raccomandata via un rischio maggiore di tossicità renale che si può manifestare con elevati livelli plasmatici di creatinina eurea e alterazioni patologiche dei reni necrosi tubulare corticale la gestione del sovradosaggio deve essere sintomatica mantenendo un'adeguata idratazione avvertenze ha stata dimostrata una resistenza crociata tra l'ossi tetraciclina e altre tetracicline nei manneemia emolitica e nei pasteurella molto cida l'uso dell'ossi tetraciclina deve essere attentamente considerato se il test di sensibilità ha indicato una resistenza alle tetracicline poi che a copyright la sua efficacia potrebbe essere ridotta precauzioni speciali per l'impiego sicuro nelle specie di destinazione l'uso negli animali di età inferiore a 6 settimane o anziani può comportare rischi aggiuntivi a causa dell'inibizione prostaglandinica di flunixina sulla funzione renale se tale impiego non può essere evitato a richiesta un'ottenta gestione clinica degli animali la flunixina tossica per gli uccelli necrofagi non somministrare agli animali che potrebbero entrare nella catena alimentare della fauna selvatica in caso di morte o sacrificio di animali trattati assicurarsi che non siano lasciati a disposizione della fauna selvatica l'utilizzo di questo medicinale veterinario deve basarsi sui test di identificazione e sensibilità dei patogeni bersaglio se questo non è possibile la terapia deve basarsi sulle informazioni epidemiologiche e sulla conoscenza della sensibilità dei patogeni bersaglio a livello di fattoria o a livello locale barra regionale il medicinale veterinario deve essere utilizzato in conformità alle norme ufficiali nazionali e locali relative all'uso degli antimicrobici tempi di sospensione carni e frattaglie 28 giorni non autorizzato per l'uso nelle bovine che producono latte destinato al consumo umano fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato